Si sveglia la mattina presto, oggi è un cantiere, domani è un costo, passiamo in ditta, carichiamo, e tutti insieme ci diamo una mano. E impostiamo un navigatore, che impulsatore, che venditore, la nostra meta, il nostro affare, la sicurezza, il nostro dovere. Si curlai, se stai venti caduta per tetti, si curlai, ogni suo tetto progetto, ospita il letto. E c'è chi compie il proprio dovere, come ad esempio tanti magazziniere, omar e giù stanno a realizzare, la linea vita più bella da vedere, semplice da usare. Si curlai, se stai venti caduta per l'alto, si curlai, per ogni tetto è il nostro, un momento, si curlai. Si curlai, ogni suo tetto progetto, ospita il letto. Si curlai, si curlai, oh si curlai. Si curlai, ogni suo tetto progetto, ospita il letto. Si curlai, ogni suo tetto progetto, ospita il letto progetto, ospita il letto progetto. Si curlai, ogni suo tetto progetto, ospita il letto. Si curlai, ogni suo tetto progetto, ospita il letto progetto, ospita il letto. Si curlai, sono tante le idee, ovvero un gruppo come noi, sono un gioco, benvenuto alla. Si curlai, se stai venti caduta per l'alto. Si curlai, ogni suo tetto progetto, ospita il letto. Si curlai, si curlai, oh si curlai.